Ciao, oggi ti insegno una cosina in più per quanto riguarda la posizione degli oggetti. Se non hai visto la lezione sul posizionamento degli elementi, ti consiglio di andarlo a vedere prima il video, altrimenti puoi proseguire e imparare un passetto in più. Ti faccio vedere questa presentazione che ho fatto come esempio. In questa pagina già possiamo notare come abbiamo utilizzato il posizionamento degli elementi davanti e dietro. Se io passo col mouse sopra gli elementi, vedi che si evidenziano e, non lo so, il pentolone è dietro la zucca. Questo fantasma è davanti a questa zucca, però dietro a questa zucca più piccola, eccetera. La cosa particolare, però, la novità di questo lavoro rispetto agli altri sono queste zucche che saltano. Osserva attentamente quello che succede alla scritta. Come puoi notare, la zucca non si limita a passare dietro le lettere, ma è come se ci passasse attraverso. Allora, vedi, questa, questa zucca più piccola, passa dietro alla C, ma le altre, l'ho lasciata apposta per vedere la differenza, sembra che attraversino le lettere. Come si fa per realizzare questo effetto? È semplicissimo. Prendiamo una pagina nuova. Per prima cosa decido che cosa voglio scrivere e in quale figura metterlo. Vado a prendere, ecco qua, l'immagine della luna. Poi metto uno sfondo più adatto, vado su sfondo, scrivo cielo stellato e poi scelgo questo qui. Ecco fatto. Siccome ho scelto sfondo, automaticamente questa immagine è stata posta dietro l'elemento che avevo posizionato. Se io invece avessi scelto una foto, la foto sarebbe stata messa davanti a questo elemento e quindi avrei dovuto poi io spostarla e metterla, e metterla dietro, sempre utilizzando questa, questa scritta. Bene. All'interno di questa luna, chiamiamola così, scriviamo una parola. La allarghiamo, la centriamo, sempre utilizzando, ecco, le nostre guide, e poi la duplichiamo. Adesso la appoggiamo un attimo qui. Quindi, tenendo selezionata la seconda scritta, quella che abbiamo duplicato, vado su effetti e scelgo svuotamento, che è quell'effetto che toglie il colore pieno della scritta e lascia soltanto il bordo. Clicco ed ecco qua. Se voglio, posso tramite questo pallino diminuire, osserva la scritta, o aumentare il bordo. Noi rimaniamo così che va bene. Ok. Per ora lo lascio qua. Poi scelgo un elemento che ovviamente dovrà essere un elemento animato per dare quella immagine di oggetto che passa attraverso le lettere. Allora, io al posto di luna cerco un pipistrello e prendo questo che si muove, vedi? Anzi, si muove proprio per tutta la mia luna. Adesso non devo fare altro che giocare con questo discorso delle posizioni. Il pipistrello deve essere posizionato tra una scritta e l'altra. Immaginati di dover preparare un panino al prosciutto. Allora, la scritta piena è la prima fetta di pane. È quella che va dietro tutto. Dopodiché io prendo, seleziono il mio pipistrello, posizione e gli dico avanti. Ed ecco che ho messo la fetta di prosciutto. Adesso ci vuole l'ultima fetta di pane. Allora, metto il pipistrello qua, dove voglio che voli. Poi vado a prendere la scritta che ho scontornato e la posiziono esattamente coincidente con quella sotto. Ed ecco l'effetto. Il pipistrello sembra attraversare la scritta. È una tecnica facilissima che gioca soprattutto con quello che è la tua fantasia. La puoi utilizzare sia per realizzare biglietti simpatici, magari poi da inviare i tuoi compagni, ma anche come titolo di una presentazione oppure come diapositiva finale per salutare chi ti ha ascoltato fino a quel punto. Bene, dopo questo tutorial velocissimo, ti auguro buon lavoro e ci vediamo alla prossima.